E' quello che mi manca, capisci? E' quello che viene dopo. Ma mi stai sentendo? No, no, no. Guarda, guarda che bagnine! Due bagnine così mi farei sabbatta la mattina e la sera io. Aiuto! No! No, no, no! Perché? Perché ci ho affessato prima. Aiuto! Tiè, 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 tiè! Eh? Regolare la cosa. Vabbè, vabbè. Baruttiscono. Discono. Aiuto! Il tuo amico! Il tuo amico! Il tuo amico! E' tutto la peste del tuo fratto! Mi prego, venite su! E' gli avuto! Venite! Prego! Sto schiazferio! Sto schiazferio! Sto schiazferio! Sto schiazferio! Sono io! Sono io! Oh mamma, come sto a male! Oh, come sto meglio! Aiuto! Aiuto! Ah! Oh mamma, come sto a male! Oh mamma, come sta a male! Minuto! Oh mamma! Gemuto! E' nostro amico! Aiuto! Grazie a tutti!